Salve amici, oggi andiamo a vedere un prodotto per l'uomo che non deve chiedere mai perché tanto poi gli rispondono di no, nella serie tesoro mi puoi stirare una camicia che ne è urgente bisogno? Lei dice no, stiratela da sola, io ho caldo con questa estate calorosa e non mi va di stirare, e allora a te che tocca fare? O uscire con una magliettina o stirartela realmente da sola. Ancora di più, se sei fuori, insomma, hai urgenza. Bene, questo è un piccolo ferro da stiro della Silvercrest, comprato a Lidl, alla modica cifra di 17,99 euro, e viene descritto come un ferro da stiro da viaggio perché è piccolino, maneggevole, eccetera, eccetera. E può stirare a vapore o a secco, perlomeno questo è quello che recita la confezione. C'è una piccola borsa all'interno, per andare in giro ovviamente con tutta la scatolozza, e che dice qui nelle descrizioni, perfetto per quando sei in vacanza o in viaggio d'affari, come se io in vacanza mi metto a stirare. Utilizzabile ovunque, grazie all'interruttore di tensione, pratico grazie al design compatto. All'interno vedremo che c'è un selettore per variare la tensione, quindi si può utilizzare sia negli Stati Uniti a 120V, sia in Europa con la 220V. Dopodiché, che cosa? Piastra con rivestimento antiaderente, ci potete fare pure le bistecchine di sopra, 3 gradi di temperatura, per seta e tessuti sintetici, lana, cotone più lino. Pratico avvolgimento del cavo nel manico, cioè il cavo, come vedremo, si mette avvolto nel manico, quindi insomma pratico, è l'unica opzione. Include custodia di trasporto, cioè detta così uno si pensa la custodia con le rotelle, per esempio quasi un trolley, una cosa mistica. Misurino e istruzioni per l'uso. Questa è la cosa più importante, sono, io dico sempre, le istruzioni per l'uso quando si tratta di queste cose. Andiamo a fare questo unboxing, tiriamolo fuori, il ferro da stiro. E allora, cosa troviamo qua immediatamente? Le istruzioni, il manuale di istruzioni, che ovviamente non è in italiano, in italiano non c'è un piffero, via. Allora, qua c'è anche il codice, SEDBR 420 A1, allora, S-D-B-R 420 A1, S-D-B-R. Che cosa c'è qua? Il pratico misurino. Vedete il misurino? Non è quello per farci pipì e le analisi. Ci assomiglia, ma non è quello. C'è scritto anche il livello massimo di riempimento. Andiamo a tirare fuori il ferro da stiro. Quanto è piccolo? È un mini ferro da stiro. È tutto polistirolo. È più polistirolo che altro. Ops. Vi rendete conto? È mini. Mini, mini, mini. Ecco, vedete? Il pratico volgicavo. Cioè, lo metti attorno e... A modo suo è pratico. Togliamo un poco... Chi altro c'è qua dentro? Ah, e qua c'è la custodia. Togliamo un poco di... Cianfrusaglie. Via... Questa... Questa plastica dal cavo, perché ora lo andiamo anche a provare, eh. Dici, su una camicia? No. Sulla tela qua del tavolino. Eh, vi eravate allargati. Qua ci andiamo a mettere un po' d'acqua distillata del condizionatore. Ok? Un po' d'acqua distillata fino ad arrivare al max. Ok. Non si vede che è max e max. Ve lo dico io. La pochette. Una donna la chiama pochette. Un uomo astuccio. La pochette. Dove mettere, dove riporre il ferro da stiro. La pratica pochette. Bellissima. Grigio topo morto. Senza coda. Vedete? Questa è la pochette. Però noi lo dobbiamo chiamare astuccio, perché la nostra dolce metà col cavolo che si mette a stirare in vacanza o per affari di... Viaggio d'affari. Ecco. Vedete qua dietro? Qui c'è il settore che vi dicevo poc'anzi, da 120 volts a 220, 240. Vedete? Si mette una punta e si fa click click. A destra, così come settatore dovrebbe essere per la 220, a sinistra per la 120 volts. qua abbiamo i comandi, vedete? La rotellina per la potenza, qua c'è la freccetta che indica il minimo e poi mano a mano che andiamo in senso orario, qua a metà suppongo che sia... qua c'è il primo pallino, il secondo pallino, vedete? E il terzo pallino. Qua la vita è tutta una questione di pallini. Dopodiché, qui abbiamo questo pulsante che non è l'autodistruzione, ma si tratta dell'erogatore di vapore, ok? Così, sollevato, eroga vapore, quando lo lasciamo giù il vapore non esce. Ora andiamo a mettere l'acqua. Qua c'è un tappino, vedete? Con linguetta annessa utilissima che impedisce la perdita del tappino, andiamo a mettere l'acqua con il nostro pratico... e com'è chi lo descriveva? Insomma, bicchierino, dai! Ecco, io non ho messo più del dovuto, come sempre accade, ora uscirà. Ok, ho fatto anche pipì, vedete? Funge anche la pistola d'acqua, fantastico! E allora, e adesso dobbiamo andarlo semplicemente a collegare. Che è successo se faccio così? Ah, ecco, qua dentro, da queste due finestrelle, da questo max max, si vede che l'acqua è al max, al massimo. Ok? Adesso vado a collegare il filo, il cavo da 1,80 m, compresa asciugo. È una cosa seria, eh! e via! Si accende la lucetta qua, ora, ecco, quando inizia a scaldare, accende la lucetta. Io metto la mano, si scalda immediatamente, nel periodo invernale, ve lo mettete dentro le mutande, tanto alla maggior parte degli italiani gli entra, e c'è spazio, voglio dire, e lo usate per scaldarvi le parti basse, perché è piccolo e via. Ora arriveranno le critiche, i non mi piace al video, per questa battutaccia cattiva. Ok, stavo parlando per me, già, già la state facendo esagerata, eh! Ecco, già riscalda. Sentite? Potenza del vapore. Ragazzi, qua ci sono quasi 40 gradi, e io sto stirando come un crasto, una tovaglia di cui non me ne frega niente, manco mi stiro la mia camicia preferita, così lei non me la brucia. Cioè, mi sto stirando una tovaglia, per giunta un pochino anche sporca, e niente. Qua ci sono i tre livelli, si sente il vapore che esce, diminuiamo la temperatura, mettiamola a due, vedete che stacca, il vapore non sembra diminuire, se lo metto così, ecco, appoggiato, perché qua dietro ci sono due piedini, dovrebbe essere la posizione di riposo! attenti! Riposo! Vedete? E' anche militarizzato. Il vapore continua a uscire, se non lo chiudo. Dopodiché, se lascio aperto, che succede? Dovrebbe bagnare un pochino. L'unica domanda che mi pongo è, ad avere un serbatoio d'acqua così piccolo, per stirare la fantomatica camicia, la mia fantomatica camicia preferita, quante volte bisognerà riempire? Cioè, sì, è pratico, è piccolino, viene bene stirare in mezzo ai bottoni, le maniche maledette, non lo so, come si vede che stiro, e quindi, boh, comunque sia. Ecco, lo metto così e stacca. Se lo metto al massimo, ah già, stava al massimo, sì. L'acqua sembra finita, no, ancora sta, no, acqua ancora ce n'è, ancora sta sputacchiando vapore. Sentite? Ora attacca, e io continuo a fare la brava casalingua. Bene, amici, amiche, questo è il ferro dal stilo del Lidl, piccolo piccolo, e volete sapere a che temperatura arriva? Ve lo dico, tanto qui un, uno strumento per la misurazione, ne approfittiamo, 160 gradi approssimativamente, 140, 160 gradi, dipende, qua in punta è più caldo, quasi 170, vedete? Ah, ecco, 160, giù di lì. E niente, questa è, dicevo, la, il ferro dal stilo della, della Silvercrest, del Lidl, qui a fianco, ho giusto un ferro dal stilo rotto, dimensioni 1 a 1, questo è il rapporto, vedete? Il piccolino è tre volte più piccolo, per darvi un'idea, questo è un ferro dal stilo regolare, misura normale, questo è, beh, la metà, però bisogna considerare che anche, insomma, il piano di, di cottura, delle camicie, è molto, molto più piccolo in superficie, insomma, quasi, quasi non si vede. Bene, amici e amiche, con questo è tutto, io stacco la presa, lascio il vapore aperto, se il video vi è piaciuto, un like, ci sta sempre bene, iscrivetevi al canale, e vi stir una camicia, ok? Ciao e alla prossima!